Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Buone notizie per Clady. L'ex ballerino di Amici, a un anno dalla nascita del piccolo Gabriel Cadiu, comunica ai follower che il bambino ora sta meglio. Come sei avevamo raccontato, era stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che la moglie Charlotte Lazzari l'aveva partorito. Subito dopo, il ballerino e l'insegnante di yoga hanno scoperto la malattia del secondo genito, l'encefalite, un'infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. Nel box domande su Instagram, un utente ha chiesto a Charlotte, si sa da cosa è stata causata l'encefalite di Gabriel. La moglie di Clady Cadiu ha risposto, certo che si sa ma non ci sentiamo ancora pronti a condividere la nostra storia così personale. Arriverà un momento in cui lo farò con il solo ed unico scopo di utilizzare questo canale social per fare giusta informazione. 13 giorni dopo il parto, a Charlotte non è sfuggito un movimento strano del suo bambino. Lo stesso movimento che si è ripetuto il giorno dopo e che ha spinto la giovane a correre in ospedale. I medici hanno subito notato che il piccolo Gabriel aveva un po' di febbre e faceva dei movimenti simili a delle crisi epilettiche. Da qui la scelta di ricoverare immediatamente il bambino. Gabriel è stato in terapia intensiva, inizialmente in isolamento, per oltre un mese e mezzo. E dopo ha affrontato diverse terapie e cure. Charlotte Lazzari ha ammesso che quando hanno parlato per la prima volta della malattia del piccolo Gabriel, sono arrivati centinaia di messaggi che raccontavano di storie simili. Quando sarà la mia missione sarà la stessa. Nel mio piccolo mi impegnerò a informare, aiutare, sostenere. Claudia ha inoltre recentemente ufficializzato l'addio alla scuola di amici, ringraziando Maria De Filippi ma mettendo al primo posto il bene della sua famiglia a cui ora potrà dedicarsi maggiormente.